L'esperienza di Torino mi ha insegnato che non sempre tutto è fatto nei giusti modi, perché secondo me l'espulsione non c'era, potrebbe esserci rigore ma non l'espulsione. Secondo me tre giornate per aver mandato a quel paese l'arbitro, come dicono loro, che penso sia una cosa un po' normale, perché se un arbitro prima della partita mi dice alla prima ti mando fuori perché c'erano stati episodi l'anno scorso, o di che è una cosa premeditata e quindi nel calcio non va bene. Si parla di giustizia, di aiutarci, ma se loro non aiutano noi non possiamo aiutare loro. Presidente l'anno scorso, quando ho giocato col Varese con la Sampdoria, quando sei in campo è normale, sempre con rispetto, io da quando gioco non ho mai preso un'espulsione, ho preso una nel 2001 e poi non ho mai preso un doppio giallo o espulsione diretta da quando gioco. Questa è la prima volta che mi succede di prendere tre giornate.